Busellato sembra davvero ai saluti, lo aspetterebbe condizionale quanto mai di rigore il Cosenza, Cosenza che in realtà lo aveva cercato fino a due settimane fa, poi c'è stata una sorta di dietrofront da parte del giocatore che sembrava potesse restare la corte di Gaetano Auteri, invece notizia di questo pomeriggio, Busellato lascerà il Pescara, lo aspetterebbe, ripetiamo il Cosenza. Abbiamo anche sentito telefonicamente il DS, ex Perugia del Cosenza che è stato ripescato in B, Roberto Goretti ci ha confermato l'interesse del Cosenza sul giocatore. Per quanto riguarda Rizzo non ci sono aggiornamenti, come sapete tutti insomma il Pescara è a caccia di un centrocampista aggressivo di quantità, Rizzo vuole fortissimamente tornare a Pescara, ma la Tristina che è proprietaria del suo cartellino, il contratto di Rizzo e Scadenza il prossimo anno 30 giugno 2022, deve trovare un sostituto, al momento non ci sono novità. Intanto è ufficiale il no dell'attaccante ex Chievo, Francesco Margiotta, non scenderà in C, lo ha detto a chiare lettere proprio il suo agente Gianluca Libertazzi, proprio al nostro sito non ci sono margini, Margiotta non scenderà in C. Dopo la tripletta invece di ieri sul campo del Benevento nella prima giornata di Serie B, impossibile sperare di chiudere per la punta dell'Alessandria Simone Corazza e come già anticipato Simeri classe 1993 non è in uscita dal Bari. Resta ancora viva l'opzione Melchiori anche se l'ultimo contatto c'è da dire tra gli agenti dell'attaccante del Perugia, ex Pescara tra l'altro, Simone Settembri e Matteo Rossetti e il DS Biancazzurro Luca Matteassi risale a circa 15 giorni fa. Intanto sabato scatterà il nuovo campionato di Serie C dopo 11 anni, il Pescara tornerà a aprire questa nuova realtà, le 20.30 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, i Biancazzurri affronteranno, ospiteranno l'Ancona Matelica, i 12 Nicola Vitto hanno superato il primo turno di Coppa Italia battendo ai rigori il Montevarchi, ne ho promosso in C della squadra dello scorso anno sapientemente costruita dal DS Micciola. Sono rimasti solo 4 calciatori, il portiere Vitali, i terzini Tofanari e Alessandro Di Rezzo, ex Francavilla e giovanili Pescara e l'attaccante terramano Federico Moretti. Ben 6 stagioni nel San Nicolò Notaresco lo scorso anno, 11 gol con la Matelica, la prima esperienza in Cipri, il classe 94 è stata finora la stagione più prolifica. Tra i volti nuovi soprattutto l'ex Nando Del Sole in prestito dalla Juve, il Pescara conserva, lo ricordiamo, il 50% in caso di futura rivendita, oltre agli abruzzesi. Alessandro Fagioli, ex Teramo, Primavera Pescara, Notaresco e Castelnuovo e Michael Deramo, ex Avezzano. Il tecnico Gianluca Colavitto che proprio sabato prossimo compirà 50 anni, vive a Lanciano dove ha giocato 4 stagioni, era un difensore conquistando 2 promozioni, allenatore Fabrizio Castori in C2 nel 99 e in C1 nel 2001. In Abruzzo Colavitto ha vinto il campionato di eccellenza, la guida della Vastese nel 2016 e ha conseguito anche una clamorosa salvezza subentrando in corso d'opera nella Avezzano nella stagione 2018-2019 in Serie D.